Radio Radicale, il 3 settembre del 1982 veniva barbaramente assassinato insieme alla moglie Manuela Setti Carraro il generale Carlo Alberto Dallacchiesa che da circa 100 giorni si trovava a Palermo per svolgere le funzioni di prefetto. Si era parlato in quelle settimane di superpoteri per il generale Dallacchiesa che si trovò in quelle settimane in chiara difficoltà. Ci sono state tante polemiche storicamente sulle condizioni in cui si è trovato ad operare il generale Carlo Alberto Dallacchiesa. Giuseppe Sangiorgi all'epoca era uno degli uomini di riferimento di Siria Godemita che allora era segretario della democrazia cristiana in quel periodo ricordiamo c'era in carica il governo Spadolini. In questi giorni uno dei figli del generale Dallacchiesa, Nando Dallacchiesa, ha rivolto degli attacchi al segretario della democrazia cristiana Siria Godemita che come sapete purtroppo è scomparso qualche mese fa. Allora Giuseppe Sangiorgi, che cosa ha detto Nando Dallacchiesa? E soprattutto sappiamo che quello era un contesto particolarmente difficile, c'era in corso una guerra di mafia sanguinosissima e la democrazia cristiana era alle prese con grossi problemi, c'era il periodo in cui era in corso la, diciamo, Mattarella stava facendo, l'attuale Presidente della Repubblica, un lavoro per depurare la democrazia cristiana dalle scorie della P2. Allora che cosa aveva detto Dallacchiesa? Nando Dallacchiesa Innanzitutto la morte del generale Dallacchiesa resta una ferita per il nostro paese, vorrei dire per la democrazia del nostro paese. Quindi nei confronti del generale Dallacchiesa c'è il massimo del rispetto e del riconoscimento di ciò che ha fatto per tutti noi. Andando Dallacchiesa due o tre giorni fa su Repubblica ha raccontato che il padre fece forse una telefonata o qualcosa, tentò di mettersi in contatto con l'onore Dallacchiesa, ma l'onore Dallacchiesa non rispose. Ora sono passati 40 anni dalla morte di Dallacchiesa, Dallacchiesa è morto pochi mesi fa. Ecco perché questo viene detto dopo che Dallacchiesa è morto? Non c'era mai stata una precedente polemica? Allora in quei giorni De Mita era impegnato nella festa dell'amicizia? Sì, io la ricordo bene quella sera perché eravamo tutti a Via Reggio e fu io ad avvertire telefonicamente De Mita che era in macchina e stava andando ad Avellino della morte Dallacchiesa. E avvertì nel lungomare di Via Reggio Rosario Nicoletti che stava passeggiando, serenare una bella sera dell'inizio settembre, stava passeggiando con la moglie ma avvicinare a lui gli dissi dalla chiesa, lui mi cadde addosso dal trauma che ricevette di quella notizia. Spiancò, ricordo che lo portai in un bar, prendevo qualcosa da bere perché si si rianimasse proprio. Fu enormemente colpito e qui si innesta anzi nei confronti Dallacchiesa un altro tema. Schopenhauer dice che l'onore di una persona è ciò di più importante che noi abbiamo, assai più delle ricchezze e di ogni altra facilitazione che possiamo avere. Nando Dallacchiesa successivamente in qualche modo chiamò in causa Rosario Nicoletti come rappresentante di quel partito che in qualche modo forse poteva coprire ambienti mafiosi. Rosario Nicoletti aveva fatto una battaglia personale terribile contro la mafia anche nei confronti di Ciancimino che era un esponente democratizzato che lui è De Mita, misero fuori dal partito poi, come tutti sappiamo. Non elaborò mai quelle accuse di Dallacchiesa e Nicoletti si è ucciso, si è gettato dalla finestra con la moglie che tentava di trattenerlo, impazzito da, naturalmente non solo da quello, ma certamente quello fu una concausa. Quindi l'onore di una persona importante va rispettata. Io sono stato vicino a De Mita, se c'è stato un uomo che è culturalmente e politicamente diverso e lontano da ogni ipotesi di collusione con la mafia, era Ciriaco De Mita. Io voglio dire per arroganza se non per moralità, naturalmente per entrambe, perché era un uomo che non tollerava che qualcuno prendesse il posto della politica in qualsiasi modo o strumentalizzasse la politica o si offrisse alla politica con chissà quali forme di privilegi e di ricambi economici. Quindi questa accusa, l'altro ieri quando abbiamo letto su Repubblica mi ha chiamato Clemente Mastella e mi ha detto, facciamo una smentita, facciamola a doppio nome, io poi l'ho dettata a Lanza in serata, forse era troppo tardi, non so se stamattina qualche giornale poi è stata la ripresa, ma il senso della smentita di Clemente mio era stato questo, siamo due uomini che hanno lavorato vicino a De Mita, abbiamo passato una vita con De Mita e ci sentiamo in dovere di difendere l'onorabilità di De Mita. rispetto ad un'allusione che in qualche modo lo chiama in causa su un tema così tragicamente complesso e delicato come fu l'assassino di Dallacchiesa. Ci fu il fatto che in qualche modo il ministro dell'interno Rognoni aveva lasciato un po' solo il generale Dallacchiesa. Allora quest'elemento, questa polemica però c'era già stata, era dunque come l'ha trovata e soprattutto ritiene che Nando Dallacchiesa abbia fatto uno più uno considerando che Rognoni era un esponente della stessa corrente di De Mita. Non lo so, è difficile rispondere perché io frequentavo Rognoni ma in modo abbastanza marginale, Rognoni peraltro è ancora vivo. Lo so, lo so, lo so, ma non voglio fare lo stesso errore che è stato fatto con la Iervolino. No, no, lo so perfettamente che è vivo, lo so perfettamente. Per questo si potrebbe, si potrebbe, si dovrebbe o si potrebbe ancora chiedere a lui. Io so che la democrazia cristiana e le sue proiezioni al governo erano contro la mafia. L'atteggiamento di De Mita, la politica di De Mita, le esclusioni dal partito che furono fatte in quell'occasione, la cosiddetta chiamata anche del fratello di Persanti Mattarella, Sergio Mattarella, come in qualche modo commissario a Palermo, era in questa chiave qui. Quindi i fatti dicono che c'era una posizione contro la mafia, che poi tatticamente ci potesse essere il problema di dare un potere maggiore, minore. Questo francamente non lo so, è una tecnicalità della politica o del governo che non conosco, quindi sulla quale non mi esprimo. Ma sul piano politico la distanza e la lotta alla mafia da parte della democrazia cristiana e De Mita era incontrovertibile. Volevo chiederle questo, lei si occupa anche di informazione, ha lavorato anche per la RAI, come ha trovato questa storia di rinviare la fiction su Carlo Alberto Dalla Chiesa? Certamente è sbagliato, io capisco il preoccupamento della RAI. Perché la figlia è candidata, ma a che c'entra? Il fatto che la figlia sia candidata, peraltro una fiction su Dalla Chiesa, ma in onda, ho visto proprio stamattina la reglazione, su Canali 5, quindi si potrebbe muovere. Vabbè, Canali 5 è una televisione privata. Ne potrà essere investita l'autorità per le garazie nelle comunicazioni, perché se qualcuno si ritiene, ritiene che quello sia un modo, sia pure indiretto di intromettersi nella campagna, di facilitare qualcuno contro altri, l'autorità per le garazie nelle comunicazioni giudicherà. Io ne ho fatto parte per anni, ci siamo trovati di fronte a tanti casi delicati, che abbiamo cercato di sciogliere nell'interesse della democrazia del nostro Paese. Quindi, da questo punto di vista, so che la RAI ha un eccezionale scrupolo, forse eccessivo, però in questi casi la RAI dice, è meglio uno scrupolo eccessivo che uno minore. Io faccio documentari per la RAI, mi ricordo l'ultimo che ho fatto, mi pare, era su Bocca o su Zaccagnini, sono fatti diversi, e mi sono sempre trovato di fronte al fatto che quando le scadenze degli anniversari cadevano dentro un periodo di campagna elettorale, dicono no, non si può, lo daremo dopo, perché in nessun modo si può influenzare, sia pure indirettamente, il tema della campagna elettorale. Quindi è uno scrupolo che la RAI ha sempre avuto, non è di oggi. Si ricorda di un incontro tra Dallacchiesa e Demita, all'epoca ci furono, tra l'altro nel periodo della lotta al terrorismo, ci furono delle polemiche, perché Craxi aveva incontrato a Raffaele più volte Dallacchiesa, che poi questa cosa venne rinfacciata a Dallacchiesa, che disse, ma io veramente avevo avvisato i vertici dell'arma dei carabinieri, quindi non c'era nulla di strano. Si ricorda di incontri tra Demita e Dallacchiesa, alle quali ha assistito lei o di cui era a conoscenza? No, io ricordo invece un altro incontro di Demita, con Falcone. Eravamo a Lilton, avevamo appena finito una manifestazione elettorale, dovevamo andare all'Eur per un'altra manifestazione, era un pomeriggio. Io ero in macchina con Demita. Quando usciamo da Lilton mi dice, Beppe, senti, devo vedere una persona adesso in macchina con me, vai sulla macchina della scorta. Io vado nella macchina della scorta e vedo una macchina che si affianca a quella di Demita, scende Falcone che entra nella macchina di Demita. E li seguiamo fino a, da Lilton, quindi da Montemario, fino a Leo. Quando arriviamo nei pressi del luogo dove c'era la nostra manifestazione, la macchina di Demita si ferma, Falcone scende, sale sulla macchina sua, che anche ci aveva seguito, e noi proseguiamo qualche minuto per arrivare lì. Naturalmente la sera, tornando poi a casa insieme, la mia curiosità era forte, dice la segretaria, perché Falcone? Beppe è venuto a dirmi, io sono un uomo di cui lui si fida, e voleva dirmi quello che per lui era il quadro generale oggi della lotta alla mafia. Non mi disse di più, però, ecco, torno al tema dell'onore. Io, questo è un fiore all'occhiello, penso, di Demita, che un uomo come Falcone gli dicesse, con lei parlo volentieri, e a lei voglio spiegare che cosa c'è, che cosa io vedo, e evidentemente qua anche il tipo di rapporti tra mafia e politica e mondo politico potevano esserci, e a Demita lo spiegava perché se ne facesse carico nella sua azione di uomo politico. Secondo lei il Partito Comunista guardava con sospetto al generale Dallachiesa? Non era simpatica ai vertici del Partito Comunista italiano? Punto interrogativo, una domanda. Non so rispondere, francamente, non ho gli elementi per rispondere. Lei non se lo ricorda all'epoca? No, non ricordo nemmeno accenni di questo tipo, con Demita, con l'entourage della segreteria del Partito Comunista. Senta, le disse mai qualcosa Demita sulle condizioni in cui si era trovato a lavorare il generale Carlo Alberto Dallachiesa? Cioè, le venne a dire, beh, forse avremmo potuto fare, si poteva... Insomma, ci sono stati momenti in cui Demita ha ripensato a quella cosa, a tutto quello che era successo, considerando poi che ci sarebbero stati il caso Nicoletti, tante altre vicende abbastanza spinose negli anni Ottanta, furono una mattanza per la mafia in Sicilia. Guardi, lei ricorda la lotta al terrorismo. quanti invocavano l'esercito? Ma un partito come la democrazia italiana diceva che devono essere le forze ordinarie dello Stato a far fronte a questo fenomeno e a batterlo. Nei confronti della mafia, in qualche modo, era la stessa cosa. Cioè, c'era sempre l'idea che mandare un commissario alla Mori, al prefetto Mori, fosse una spesso di incapacità dello Stato con le sue strutture ordinarie di far fronte alla mafia. Nei confronti di Dallacchiesa, questo è stato, secondo me, il retropensiero di tutti. Infatti lui fu incardinato come prefetto, non come un commissario speciale. Cioè, doveva rivestire un ruolo istituzionale del paese, perché attraverso i ruoli istituzionali il nostro paese doveva essere in grado di far fronte a un fenomeno criminale come quello e sapersi misurare con un fenomeno come quello. Quindi, ripeto, è estremamente complesso il retroscena, diciamo così, dell'assassinione della Chiesa, perché in buona fede tutto quello che è avvenuto era stato fatto da parte della democrazia cristiana, perché dalla Chiesa, certo la sua capacità straordinaria, aveva battuto la mafia, il terrorismo, come sappiamo, ma al tempo stesso, incardinato dentro la struttura istituzionale dello Stato, potesse fare il meglio per il nostro paese. Il fatto che lui avesse un buon rapporto con Craxi non condizionava De Mita? No, non credo proprio. La moralità della politica per De Mita era risolvere i problemi, non essere amico di questo, essere amico di quell'altro, avere un altro credo. Vuole aggiungere qualcos'altro che non abbiamo detto? No, no, perché magari io... Ricordi le confessioni che si fanno da ragazzino, quando uno al prete diceva e mi petto anche di tutto quello che adesso non ricordo. Va bene, no, 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 ma certo, ma non era una cosa da prete, va bene. Senta, io la ringrazio tantissimo per aver puntualizzato questa cosa su Nando Dalla Chiesa nei confronti di Ciriaco De Mita che oggi purtroppo non c'è più. Tra l'altro io ricordo l'ultima volta che siamo riusciti a intervistarlo per Radio Radicale e lei mi aiutò e di questo la ringrazio. Vorrei ripetere che anche Clemente... Noi abbiamo mandato a Lanza una nota a firma doppia, Clemente Mastella è mia, proprio perché Clemente ha sollecitato me l'altra sera, voglio ripeterlo, a dire che una cosa di sé non può passare. Che si faccia un'allusione di questo tipo su una persona come De Mita nei confronti della lotta alla mafia, questo no, dobbiamo dire di no. Giustissimo. Allora, grazie per essere venuto da noi a raccontarcelo. Ringrazio Giuseppe Sangiorgi. Grazie a Radio Radicale che come dico ogni tanto, a Noa, come dico spesso, anzi, come dico sempre, è la democrazia in diretta.